Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del Regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro voi stessi date loro da mangiare ma essi risposero non abbiamo che cinque pani e due pesci a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli fateli sedere a gruppi di cinquanta circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione. Li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, dodici ceste. Parola del Signore. La solennità del Corpus Domini, come la chiamiamo di solito, il corpo e il sangue del Signore, è il momento in cui la Chiesa ci invita, dopo averlo già fatto nel Giovedì Santo, a contemplare il dono più grande che si è fatto Gesù, cioè il tesoro della Chiesa, che è l'Eucaristia, che è questo pane spezzato, questo vino versato, che rendono presente, ecco, rappresentano, ma nel senso più forte del termine, che rendono presente la persona e soprattutto, direi, il dono, la persona che si dona di Gesù. Questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue sparso per voi. È la Pasqua di Gesù che si rende accessibile a noi, altrimenti sarebbe sepolta nel tempo, duemila anni fa, ma invece si rende presente e diventa nostro cibo, nostra bevanda, nostro sostegno nel cammino. Ecco, nel Vangelo di oggi ascoltiamo il famoso racconto che tutti i Vangeli ci narrano della moltiplicazione dei pani, ma quello era un segno, gli evangelisti quando lo raccontano si sente proprio che già hanno in mente, perché naturalmente tutto era già successo, hanno in mente l'ultima cena, quello era una figura, era un simbolo rappresentativo di ciò che sarebbe successo, della vera moltiplicazione dei pani, che sarebbe stata appunto il comando del Signore, fate questo in memoria di me, e da sempre i cristiani hanno spezzato il pane, hanno versato il vino, per proseguire questo dono, per continuare nei secoli questa presenza che è la presenza stessa di Gesù. Ecco, l'Eucaristia è davvero il vertice dei sacramenti, perché è Gesù stesso che continua a donarsi e a nutrire la sua chiesa. È davvero una tristezza che tante persone, specialmente giovani, si siano allontanate dalla partecipazione all'Eucaristia. È compito proprio nostro, di quelli che ancora vi partecipano, di testimoniare la bellezza, la grandezza di questo sacramento, la gioia dell'incontro con Gesù nell'assemblea dei fratelli, nell'ascoltare la sua parola, nel mangiare il suo pane di vita, pane del cammino, pane del viaggio. Quando saremo in paradiso, sperando di andarci, non avremo più bisogno dell'Eucaristia, ma mentre siamo in cammino nella fede su questa terra, abbiamo proprio bisogno del pane di vita. Ricordiamo che Gesù ha detto, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ecco, questa vita eterna che è stata asseminata in noi nel battesimo va nutrita con l'Eucaristia, perché cresca in noi l'amore, la fede, la speranza, perché possiamo essere testimoni di quel dono e viverlo ogni giorno nella nostra vita.